Il Signore ti parla e ti dice così Tu da tanto tempo che hai ricevuto una parola che mi devi servire Io te l'ho mandato a dire da più parti Ho mandato i miei servi a ricordartelo Però tu l'hai accantonata Perché hai iniziato a pensare che per servire me Devi abbandonare il lavoro Devi abbandonare qualsiasi cosa nella tua vita Ma io ti dico questo in questo momento Tu se fai quello che io ti ho detto Tu non perderai nulla perché io ti benedirò Anche se tu mi dedichi un'ora della tua vita giornaliera Io ti benedirò cento volte tanto Io condanno in te se tu tralasci come hai fatto fino in questo momento Che non hai ascoltato quello che io ti ho mandato a dire Perché io voglio che tu mi serva Io voglio che tu sii mio, sia mia In quello che io ti comando di fare Perché io ti ho affidato una cosa Che è proprio apposta per te Io non ti farò fare mai cose che non sono per te Devi essere tu che ti ci devi incanalare Devi essere tu che devi cercare la mia faccia E giorno dopo giorno tu devi fare la mia volontà Ricordalo Se tu mi dai il tuo tempo in quello che io ti chiedo Io ti benedirò cento volte tanto Ma tu hai ascoltato quelli che ti sono intorno Che ti svogliano e ti dicono Se tu fai questo perderai il lavoro Se tu fai quest'altro non potrai fare quello che tu devi fare Ma ricordati che queste voci intorno a te non vengono da me Perché se io ti ho comandato una cosa E ti dico che ti benedirò Mettimi alla prova e vedrai come ti benedirò Ma tu devi essere ubbidiente E devi ascoltare ciò che ti sto dicendo in questo momento E allora vedrai l'adempimento di quella parola Che ti è stata data tanto tempo fa Che tu l'hai messa nel cassetto Io adesso l'ho rispolverata E te la sto riportando alla mente Ma tu ti devi mettere all'opera E devi iniziare a servirmi come io voglio Questo ti dice il Signore Gloria al Signore Gloria